Questo è il terzo e ultimo video della miniserie su come smettere di fumare. Nel primo video abbiamo conosciuto il nemico, nel secondo invece abbiamo parlato di quali sono le soluzioni per smettere di fumare. Oggi invece toccheremo l'argomento di tutte quelle che sono le giustificazioni che sento dire ai pazienti fumatori e quindi andremo in pratica a demolirle e infine al video andremo a parlare di come sviluppare una nuova consapevolezza per venire fuori da questo problema. E allora bando alle ciance, sigla! La prima frase che mi sento dire dai pazienti fumatori è dottore io fumo perché mi piace. Ora, piacere è un parolone. Il punto non è tanto che ci piace fumare, quanto è che ci sentiamo depressi se non lo possiamo fare. Questo piacere poi è effimero, è transitorio. Tu pensa che una sigaretta appena fumata dà ovviamente la botta di nicotina. Questa nicotina si dimezza come concentrazione a 15 minuti di distanza e addirittura diventa un quarto a 30 minuti. Quindi cosa accadrà? Accadrà che dopo circa mezz'ora dalla sigaretta ti verrà voglia di accenderne un'altra. Quindi capisci e cerca di focalizzarti sul fatto che è una dipendenza a tutti gli effetti ed è una dipendenza forte. Altra giustificazione detta dai fumatori è l'importante è godersi la vita. Non mi importa se devo campare meno. A questa affermazione io rispondo molto semplicemente che sei proprio sicuro che la vita di una persona dipendente da una sostanza come può essere un alcolista, un tossico dipendente o un eurinomane sia proprio migliore rispetto alla vita di quello che non ha dipendenze. Altra giustificazione è quella di dire di qualcosa si dovrà pur morire. Io credo che questa cosa sia ovvia però non mi sembra un buon motivo il fumo per accorciare e peggiorare la tua esistenza. Altra affermazione che mi viene fatta è fa più male lo smog delle automobili rispetto al fumo di sigaretta. Anche questa cosa sai benissimo che non è vera ma se anche lo fosse hai mai visto uno tanto furbo che si mette a fare le inalazioni e l'aerosol accanto a un tubo di scappamento dell'automobile? Questo è quello che fai quando fumi e ti posso garantire che è sicuramente peggio rispetto a fare una passeggiata in centro a Milano o comunque a una città molto trafficata. Un'altra affermazione tipica è quello che non voglio smettere di fumare se no in grasso. È abbastanza caratteristica nelle donne come giustificazione e qui in realtà dobbiamo parlarne molto attentamente, dobbiamo fare dei distingo. Questa affermazione infatti in realtà è vera in circa la metà dei casi, cioè in metà delle persone che smettono di fumare effettivamente si ha un aumento di peso. Ma questo perché? Perché la nicotina da una parte è un'eccitante, cioè accelera il metabolismo e quindi alla fine fa consumare più calorie. Ma dall'altra, venendo a mancare il conforto immediato e falso della sigaretta, un po' come il ciuccio per i bambini o la copertina per Linus, si può cercare effettivamente gratificazione nel cibo e quindi si va a ricercare e soprattutto a mangiare molto spesso in maniera compulsiva zuccheri raffinati, grassi idrogenati, merendine con sale e zucchero aggiunto e ancora junk food. Questo perché si cerca soddisfazione, perché abbiamo delle mancanze, ma questo deve essere una sorta di là, un incipit, un inizio per in realtà farci prendere una pausa di riflessione e capire veramente qual è la direzione da intraprendere, quindi arrivare a una nuova consapevolezza. Giustificazione molto gettonata fra i fumatori è quello di dire fumo poco tanto poche sigarette non fanno male. Questa è un'affermazione che ben sappiamo che non è vera perché il danno dal fumo si dice che è dose e tempo dipendente. Che vuol dire? Fumi poco, poco male. Fumi tanto, tanto male. Se fumi per tanto tempo avrai tanto danno. Quindi anche questa, ahimè, è una giustificazione che non regge proprio. Perché è tanto difficile smettere di fumare? Perché la sigaretta è vista come un conforto, come l'amica che ti permette di avere un po' di relax, un minuto per te, oppure anche uno spazio di condivisione con i tuoi amici fumatori. Il punto è che la sigaretta, che dovrebbe farti star meglio, non è la soluzione al problema, ma anzi è la causa dei tuoi problemi. La verità è che noi per anni siamo stati vittime di un marketing incessante, una comunicazione continua che ci faceva vedere modelli e quindi attori e attrici affascinanti e sexy quando fumavano. E questo ci ha lasciato un'impronta difficilmente cancellabile nelle nostre menti. Negli ultimi anni le measure del fumo hanno lavorato per cambiare la comunicazione e farci passare, ad esempio, la sigaretta elettronica come la variante healthy, cioè la variante salutare della sigaretta. Quando invece ben sappiamo che comunque all'interno della sigaretta elettronica, pur non essendoci una vera combustione, c'è comunque nicotina e quindi questa sostanza ti renderà dipendente e renderà dipendente moltissime persone. Una schiera di zombie e quindi di consumatori inconsapevoli che sarà, ahimè, legata, schiava e dipendente comunque dalla nicotina. E poi comunque ci sono delle sostanze assolutamente velenose come ad esempio la formaldeide, una per tutte, ma ce ne sono ovviamente molte altre. C'è da dire poi che se da una parte ha funzionato la comunicazione delle multinazionali del tabacco, sia per andare a spingere le sigarette, sia per andare a incentivare l'utilizzo della sigaretta elettronica, dall'altra io credo che sia stata sbagliata invece la comunicazione da parte del Ministero della Salute e delle associazioni antifumo. Infatti sono stati utilizzati solamente messaggi negativi, le etichette che trovi sui pacchetti delle sigarette, degli out-out, delle imposizioni forti, quindi messaggi che in qualche modo non arrivavano alla persona, ma anzi il fumatore cercava sempre di andare a sviare e quindi di andare a focalizzarsi su altro. E quindi questo tipo di comunicazione si è rivelato assolutamente inefficace. Quindi la soluzione è quella di sviluppare una nuova consapevolezza. Come dobbiamo fare? Non dobbiamo concentrarci tanto sugli sbagli e gli errori che derivano dal fumare le sigarette, ma dobbiamo piuttosto andare a porre l'attenzione su quella che potrebbe essere la nostra miglior versione, una nuova e futura condizione di benessere che può derivare dal vero smesso di fumare. Un primo beneficio che potremo ottenere è una miglior salute. Basti pensare come potrebbero lavorare meglio i nostri organi, i polmoni, riuscire a respirare senza quella maledetta tossetta e bronchite croniche. Il cuore riuscirebbe a pompare alla grande il sangue e essere ben ossigenato. I denti e la bocca sicuramente riusciranno ad avere degli ottimi benefici. Finalmente denti bianchi, finalmente denti e gengive in salute. I nostri muscoli che riusciranno sicuramente avere più irrorazione e quindi più forza. Il secondo enorme beneficio che potremo avere alla fine di questo percorso è un aumento della nostra energia, della nostra vitalità. Molto spesso il fumatore si sente stanco in numerosi momenti della giornata. Maggiore energia e maggior vitalità possono far rima con nuove attività fisiche, nuove attività intellettuali o comunque una rinnovata socialità. Altro aspetto positivo sarà quello di una rinnovata serenità, una rinnovata tranquillità. Ti sentirai finalmente libero dalla dipendenza della nicotina e non sarai più schiavo della situazione in cui avrai il problema di dove andare a reperire il pacchetto di sigarette oppure di dove andare a poter fumare. Ti verranno così meno tanti disagi che sono invece prettamente legati alla quotidianità dell'essere fumatori. Smettere di fumare poi ti permetterà di avere più rispetto per te stesso. Il corpo è uno solo, è il nostro compagno di vita, è il nostro amico di viaggio e quindi è bene che tu te ne prenda cura. Ultimo vantaggio da tenere comunque ben presente è quello economico. Smettere di fumare ti permetterà di risparmiare un sacco di soldi e magari devolvere queste energie per comprarsi a fine di tanti anni di risparmio un bell'appartamento. Nel primo video della miniserie ho spiegato come questa cosa in realtà sia possibile. Con questo siamo arrivati alla fine del video e alla fine di questa miniserie su come smettere di fumare. Se ti è piaciuto il video ovviamente metti un bel like, se non sei ancora iscritto fallo perché ci dai una grande mano. Ora che abbiamo finito finalmente esco fuori e mi vado a fumare una bella sigaretta. Sto scherzando eh? Ciao alla prossima!